POKEMON ARCHEUS 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 Purtroppo sono ancora a monostella Mi mancano pochi punti per salire di rango Or dunque, ricapitolando In base a ciò che Perudo e Rapan ti hanno detto Cleaver rimane dalla collera E quando agitato è possibile calmarlo Offrendo gli suoi due cibi preferiti Possiamo dedurre che a dargli serenità Sia l'aroma o qualche altro elemento Prodotto dalla combinazione degli ingredienti Potremmo seguire lo stesso principio Per pregare la sua collera attuale, no? Ciò detto abbiamo un ulteriore problema La collera di Cleaver è così violenta Che neppure il capitano che l'accudisce ogni giorno Riesce ad avvicinargli, sì Dunque dammi un momento per mettere in ordine le idee Deve esserci qualche inizio tra i miei documenti Geopardy Mettiamo la musica di Geopardy Eureka Ci sono, idea geniale Li lanceremo Link, tu sei un prodigio di lanciare le Pokéball Perché non sfruttare questo talento per lanciare i cibi a Cleaver? Sì, mi sembra che possa funzionare Utilizzeremo la stessa tecnica che si usa per costruire le Pokéball Ma a posto dei materiali classici Useremo i due cibi prediletti da Cleaver Sarà una Pokéball in grado di donare calma e pace Potrei chiamarla Calma Sfera Perché non chiamarla Lavembol invece? Preferirei di no Non mi piace l'idea di essere lanciato contro un Pokémon feroce In ogni caso, contiamo sul Team Perla per i due cibi di cui abbiamo bisogno Dovresti tornare all'Arena del Colosso e riferire i nostri pieni al Team Perla, Link La base sull'altura è un buon punto di partenza per raggiungere l'Arena del Colosso Eh vabbè, ma ogni volta devo fare così, devo arrivare là un'altra volta? Ah, attenzione, c'è però... Risa Guarda, guarda Per la serie del Team Galassi hanno fatto le cose in grande D'altronde se fosse stata una baracca, sai che risate? Ehi là, ho una cosa da dirti Siccome spiegartelo così è un po' complicato Andiamo lì Com'è che si chiamava? Ah, la base sull'altura Ah, meno male, fast travel grazie al gioco, meno male Uh, ti prego Ti prego davvero Ho detto a Weirdir come stanno le cose Gli ho raccontato che stai girando la landa in lungo e in largo in cerca di un modo per calmare Clayvor E tutto questo nonostante tu non faccia parte del Team Diamante o del Team Perla Ma sia solo un tipo caduto qui attraverso uno squarcio spazio-temporale E come vedi, questo è il risultato Niente male, no? Weirdir ha riconosciuto il tuo valore Il che significa che ti sei guadagnato un regalo Ma è pure Risa Stai per sentire qualcosa di vitale importanza Quindi vedi di aprire bene le orecchie Quello che Risa ha appena suonato è il Flauto Memor Day Si tratta di uno strumento importantissimo con cui potrai chiamare Weirdir e salirci in groppa Si dice che sia un dono del sommosinno Ora è tuo, abbine cura Grazie mille Ah, non farti problemi Io sono negato a suonarlo Prova a suonare la stessa melodia Dopo che ci ha sbavato Risa Weirdir ha imparato la melodia che hai appena suonato Ah, ok Quindi la ricorda E verrà da me Cosa è quella? Ah, ah, ok Ma in effetti anche il personaggio ha uno sguardo un po' confuso Ok, astramente Però non c'è scritto nulla Suonare Flauto Memor Day e l'altissimo Weirdir ti porterà dovunque vuoi Devi raggiungere l'area del colosso per placare Cleaver, no? In groppa Weirdir potrai attraversare la landa al galoppo in un batter d'occhio Perfetto Allora direi di provare subito, no? Con il pulsante più potrò chiamare Poké Passaggio Non sarai immune agli attacchi di Pokémon selvatici o danni subiti cadendo da grandi al terzo Ah, ok Bellissimo Ah, ma proprio è istantaneo, eh Wow Beh, addosso ai palloncini in groppa ai Pokémon Ok Ah, con B si corre, ok Combattiamo un po' contro questo palloncino qui, Driflun Ah, acquaggetto Wow Facciamo una Pokéball subito, dai Eh sì, è notte in effetti Quindi si possono trovare Ma sta facendo giorno o sbaglio? Ah, ma il ciclo giorno-notte nel gioco fa come para lui Va... Oddio, non è che va male, eh Mamma mia, attenzione Ok, cerco di calare un po' Tranquillo, perché se no Mi faccio malissimo Ah, posso raccogliere comunque gli strumenti Bene Ok No, no, tranquilli Non mi faccio vedere da nessuno Ok, scampata bella Ah, ma quindi Devo tenere premuto B Per andare sempre più veloce Non basta che io Apriamo una volta Perfetto Ma volevo capire Insomma, questa cosa Ah, ho trovato anche un oggetto smarrito Oddio, che succede? Ah, segnalazione oggetti smarriti Ok Vuoi accettare il regalo di ringraziamento? Sì Ah, i punti gratitudine Oh Perfetto Questo ci voleva Allora, andiamo in grappa a Weirdir No Ah, ok Sali, ti prego Sali Non mi Non mi Ok Sì, lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Scyther Lo so che mi hai visto Però Eh, aspetta che mo' ti combatto Oh Eccomi qua Va bene, Scyther Così almeno catturo un Pokémon Nuovo Vado con Raffica Perché voglio fargli un po' male Ma voglio avere un turno extra Che però non ho Ok, si guarda attorno Perfetto Vai, Pokéball Devo riuscire a catturarlo, dai Preso, bene Alla grande Legno Buono Dov'è la strada? Sono perso Oh, questo è cattivo Ah, eccoci qui Ah, salve Ehi Ciao Come va? Dunque Il Team Galassi Ha scoggiato un metodo Per clamare Cleavor Volete lanciargli contro Delle sfere Fatte con i suoi cibi preferiti Che pensata singolare Devo dire che grazie al Team Galassi La tecnologia ha fatto passi alla gigante Se si tratta di fare un'offerta di cibo a Cleavor Potete contare su di me Diamoci da fare allora Ehi Rapan Ehi Rapan Il modo migliore Il modo migliore per scoprire se posso fidarmi di te È metterti alla prova Tu lotti con i Pokémon che hai catturato nelle tue Pokéball, giusto? E io invece al mio fianco ho un Pokémon a cui tengo come un fratello Se riuscirei a battere me e Glaceon Avrei mio via libera per occuparti di Cleavor Allora accetti la mia proposta? Ok Sì, potevo magari un attimino sistemare i Pokémon Ecco Per l'appunto Però, ehi Che bisogna fa? È più veloce lui Ma ci picchia È di tanto poi Ma è rotolamento potente Tanto mi ha fatto Un altro attacco E mi faceva fuori Quindi Eccolo qua Bene A posto Va bene, sì L'avevo già messa in conto Quando avevo il primo attacco Allora Sindaquil, vai Però, oh La pioggia si riflette sui Pokémon e sui vestiti Il bagnato Non è da sottovalutare Che faccia potente o rapida Non guadagno turni E Glaceon neanche Quindi meglio potente Bene Uh, scottato Il prossimo turno è fatta Credo Sì, è fatta Cavoli ragazzi Qui le lotte Pokémon sono diversissime Cioè nel senso Sì, ok Devi sempre attaccare Turno per turno Magari guadagni più turni Magari non ne guadagni Ma I danni che facciamo I PS che abbiamo È tutto diverso Però è bello Adesso capisco Le Pokéball sono solamente uno strumento Avrei pure catturato i Pokémon con quilotti Ma è evidente che per te sono dei preziosi compagni Lascerò che ti occupi di Clevor allora Ma prima fammi rimettere in sesta i tuoi Pokémon E ora spiegami in cosa consiste il piano del team Galassia Cos'è intenzione di fare con il cibo Quindi è intenzione di creare delle sfere con i suoi cibi prediletti E lanciarvele in modo che si plughi a contatto con esse Effettivamente non c'è bisogno di avvicinarsi a Clevor Per utilizzare questa vostra invenzione Una sfera che aiuti a ritrovare la tranquillità Se dovessi dargli un nome la chiamerai Sfera Zen D'accordo rimbocchiamoci le maniche E creiamo delle sfere Zen per calmare Clevor La cosa divertente è che posso far evolvere Sin da qui l'ora Ecco fatto Una montagna di sfere Zen Speriamo che bastino a calmare Clevor Ci siamo? Allora? Io sono pronto per chiamare Clevor Il re delle foreste Veramente Non sono pronto Devo fare un attimino una cosa Ma che scherzi sono questi? Non provare a tirarti indietro dopo tutti questi preparativi Giuro che mi arrabbio Beh Allora io metterò Beh, prima metterei ovviamente Weasel Però sin da qui Ah, posso premere X Bene Bello lui Vai Quilava Perfetto Carinissimo Bellissimo il mugshot Allora direi che Ok, perfetto Ci siamo Vai Procedi E sia Oh Clevor È giusto Per lanciargli contro Una sfera Zen Che Grazie a tutti Allora direi che Perfetto 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 Allora come Come va Ok devo ridurre il suo indicatore collera Vinciare quando questo raggiunge lo zero Puoi anche lottare contro i Pokémon regali lanciando loro una partner ball quando hanno abbassato la guardia Se vinci la lotta il Pokémon sarà indifeso e le tue sfere zeno saranno più efficaci Ok Lottiamo un po' va Facciamo un po' di luce Mamma mia ragazzi Ok Ah guadagni più turni no no solo uno solo uno Eh ok sta so... eccolo qui Doppio smash Ah ok Non ha... Ma tecnica potente al limite al limite al limite Mi manda KO Oh buono Levito roccia Wow Ok si si l'avevo messo in conto l'avevo messo in conto Va bene va bene Va bene va bene Dunque lui è acciaio giù... è roccia voglio dire Quindi... oddio Si 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 Ehm... Molto Masse... Fulmin denti vai Ok 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 Facci picchia No, 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 via, via, via Devo lanciarle meglio però Ok Quindi? Che fai ora? Oh, l'ultimo Dai prendilo però, su Ma non lo becco? Porca miseria Mamma mia Dov'è però? Dov'è? Ah, eccolo qua Me l'avevo perso No! Cosa fa? Ah, eccolo, ora lo becco Andiamo in lotta, va Beh, contro Bidoof non è che possa Fare, cioè non è che posso fare Tantissimo contro Cleaver Con Bidoof Ok, assume una posa combattiva Quindi doppio smash ti fa assumere una posa combattiva? Oh, vabbè Morso Faccio botante perché tanto Bidoof con un attacco Ecco Oh Vabbè, non importa Ah, posso ancora attaccare Andiamo un po' con sta Revia Eterre Lama, vai Bellissimo danno Aia, vero È levito roccia questo Mamma mia Pensavo non se lo ricordasse Ah, vai Luxio Ci picchia ragazzi Ok, guadagno un turno in questa maniera Ah, ma solo con l'attacco rapido? Allora Fulmindante, scusami Magari, ecco, posso fargli danno Sì No, che fa? No, che fa? Ok, è fatta allora La lastra di pietra di tipo coniottolo Ah, e se ne scappa così Vabbè Ma, ma che succede? La luce che scatoliva dal corpo di Cleaver è smanita Oh, Cleaver Re delle foreste È forse un segno che la tua collera è cessata? Che fosse quel misterioso fulmine L'origine della forza spaventosa di Cleaver? Può darsi Questa è l'idea che mi sono fatta della faccenda Qualche giorno fa È cauto uno strano fulmine Dallo squarcio spazio temporale Dunque deve essere sotto quel fulmine Al colpire Cleaver Scatenando la sua collera Dallo squarcio spazio temporale, hai detto? Allora è vero che al di là Dallo squarcio spazio temporale Riceva del sommo sinno Quel fulmine deve essere stata opera sua Ma quindi Abbiamo forse fatto male a calmare Cleaver? Ah, che sciocco Sono stato a dar retto al vostro piano Pensavo di sapere quel che facevo E invece non sapevo niente Accidenti! Calma, Rapan Ricordati che Cleaver, il re delle foreste Ha sempre allontanato i Pokémon Che minacciavano il Timperla Se il vero sommo sinno Viglia su di noi Non mi sembra plausibile Che abbia deciso di scatenare Cleaver Contro i suoi seguaci Link ha fatto la cosa giusta E ciò che ha fatto è importante Ti ringrazio per aver risolto questa situazione Impedendo che i nostri rapporti con il Team Diamante E con il Team Galassia Si inasprissero Se dovessi incappare in altri Pokémon Presi dalla collera Ti prego di aiutarli Capisco E sia, mi avete convinto Mi scuso per aver perso le staffe Hai tutta la mia gratitudine Tieni È un piccolo ringraziamento da parte del Timperla È un modo per chiederti scusa Per non essermi filata immediatamente di te Però ora che ci penso È bello che lei abbia Glaceon Baccacidro Buona Lascia che rimette in sesto i tuoi Pokémon È il minimo che possa fare Per ringraziarvi della difficile impresa E così sei caduto dal cielo, eh? E va bene Non ha più motivo di dubitare di te Però sarei davvero curiosa Di scoprire il perché di questo tuo singolare E inusitato arrivo Tutto è bene Quel che finisce bene Però se devo essere onesto Non mi dispiacerebbe Rivedere Cleaver in quello stato La sua forza era davvero impressionante Ok Quindi che devo fare? Riferisci al direttore Sorwan Che hai portato a termine la tua missione Allora Le catture di Pokémon procedono, vedo Hanno un rapporto dettagliato Sei gentile È solo tre Pokémon a sto giro Però, vabbè Ho calmato un Pokémon Inbizzarrito Che faceva paura, voglio dire Eh? Conterà qualcosa, vero? Non bastano ancora Per il prossimo rango Ma dai Oh no Sei riuscito a placare La collera di Cleaver Il re delle foreste Torno al villaggio E informa Sorwan Su Magari mi fa salire Sorwan Di livello E Telo Una luce che svanisce in cielo Negli lucro che hai plagato Un Pokémon regale Oh, ma cosa vedo nei miei occhi? Quelle sembrano proprio Delle lastre Fammele vedere un istante Per favore Vi è inciso qualcosa Il luogo è ove l'universo nacque Ove l'essere originario Ebbe principio Sembrerebbe parte di un antico mito Posso domandare dove le hai ottenute? Oh, quindi le hai ricevute Dopo aver ottenuto l'approvazione di Weirdir E in seguito placando la collera di Cleaver Uh, fremo dall'eccitazione Non è altro che una mia congettura Ma credo che le lastre come queste Siano sparse per tutta la regione Raccogliendole tutte E decifrandone le incisioni Potremo scoprire delle verità nascoste Nulla stimola Con la mia curiosità Più dei misteri cerati Nei miti e delle cronache antiche Straordinario Io vivo per questo Ma ora ti devo salutare Alla prossima Questo qui viene Va Dice Fa Ma oh, insomma Eccolo qua sopra Dai Ebbene Continua le tue ricerche sui Pokémon Mostra a villaggio giubilo Quanto sei prezioso È tutto Puoi andare I tuoi compagni Devono essere alla tovaglia di lino Raggiungili Caro Rampei Gradiremo tre porzioni Dei soliti moci di patate Please E ci porti anche Qualche altra specialità Della casa Se non le dispiace Sei sulla bocca di tutti Ragazzo Se penso che hai affrontato Cleavor Ritieni di fortunato Se sei ancora tutto intero Ma Rampei è anziano E quindi trema Ma è bellissimo Tutto ciò Se posso permettermi Link era preparato a dovere Suppongo abbia analizzato Con cura Le movenze di Cleavor Durante la lotta La sua vittoria È dovuta all'impegno costante Che ha dimostrato Amazing Grazie ai tuoi sforzi Anche la squadra di ricerca Potrà dedicarsi Sulle missioni In tutta serenità E per stare più sereni Perché non provi questa È una ricetta Che ho creato Con l'aiuto di Rampei Palla orba? Patata fumosa E falce tonda Non ho idea Ormai non dobbiamo più Preoccuparci Di venire a graditire Cleavor È il momento ideale Per analizzare Pokémon della landa ossidiana Mmm Sì magari dovrei catturarne qualcun altro Link Ti stavo aspettando Link Mi chiamo Spira Ho una richiesta importante Da farti Puoi venire un attimo con me? Chi sarà mai? Che resti un segreto Ma Isui È stata colpita Da una grande sciagura Centinaia e centinaia Di anni fa Gli abitanti di Isui Riuscirono a sigillare Un'entità portatrice Di disgrazie Ma ora qualcosa Ha rotto il misterioso Incantesimo Che imprigionava Tale minaccia Bisogna intervenire O saranno guai grossi Per tutti Per favore Link Ho bisogno del tuo aiuto Per ripristinare Sigillo ormai spezzato Che posso fare? Grazie Link Grazie mille davvero Sapevo di poter contare Su di te Prendi questa roccianima E conservala con cura La roccianima Uh Chissà come si fa Quei spiritum Permette di raccogliere Fiammelle Dai luccichi violacei Ah Ho capito Quando il sigillo È stato spezzato Tante piccole fiammelle Si sono sparse Per tutta Isui Sono centosette In tutto E la roccianima È capace di assorbire Quelle fiammelle Al suo interno Non centootto Ok E c'è dell'altro Finché avrai con te La roccianima Potrei vedere Le fiammelle A occhio nudo Forse una già è dentro Perché è la base So richiederti Un grosso favore Ma vorrei che tu Raccoglissi tutte le fiammelle Dovrebbe essercene una Proprio qui vicino Dovresti riuscire a vederla Avvicinati a quella fiammella E prova a toccarla Ok ci provo subito Bellissima sta cosa Il modo per prendere Spiritomb qui È bellissimo Oh Ah è stata assorbita Proprio Ok Che però che paura Sta bambina La fiammella È stata assorbita Dalla roccianima Bene Sono felice Di aver scelto te Per la mia richiesta Link Se non sai dove Cercare le fiammelle Chiedi pure a me Preparerò anche Una ricompensa Per quando le avrai raccolte Io sono sempre qui Vieni pure a trovarmi Lei è un fantasma Secondo me Quindi lei La troviamo sempre Qui a questo albero Va bene Ci sta Uh però Uh però ragazzi Quante cose Sono successe oggi Oltre all'evoluzione Di sindaco Li inquilava Anche abbiamo placato La collera Di Cleavor Ehi Oh Snap Certo Che ha stato L'accoggiatura Del team Galaxy Sono un passo avanti Tanto di Capello No Non mi dire Tu sei Link Hai ammazzito Cleavor Il re delle foreste No Eh Sì sono io Sei strafamoso Cioè persino Qui ti teme Perché è stato Do mare Uno dei favoriti Del sommosinno Ah che distratta Io sono Maru Sono un capitano Del team diamante Nonché premiata Acconciatrice Ma che cosa Pre acconciatrice Capperucca Capperucca Cosa Devo correre A parlare con Saru Ci si vede Maru Ma come la missione Ma cosa Ma perché Va bene Ad ogni modo Uh Ad ogni modo Beh vedremo Nel prossimo Episodio La ditta In cingo È arrivata Amici Che dire Vi ringrazio Per aver seguito Anche questo Episodio Di Leggende Pokémon Archeus Come sempre In descrizione Trovate il link Per Instagram E Telegram Se ancora Non siete iscritti Magari Fateci un pensiero E noi Ci vediamo Ovviamente Domani Con un nuovo video Bye bye Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Grazie a tutti.